Ciao, benvenuto sul mio blog, mi chiamo Laura Leotta, sono un manager della Forever Living. Con questo video voglio mostrarti la possibilità di poter lavorare online con un sito e-commerce di prodotti a base di aloe vera. Io lavoro con un gruppo che è diffuso in tutta Italia e si chiama La Rosa del Benessere su Coloe Vera. Trattiamo prodotti a base di aloe. L'aloe è questa pianta che qua vedi, è questa pianta succulenta con questo gel, dalle molteplici proprietà. Noi abbiamo 200 prodotti a base di aloe, che vanno dalle bevande alle creme, all'igiene, allo shampoo, sono prodotti veramente molto richiesti non solo all'Italia ma a livello mondiale. Ti offre l'opportunità di poter lavorare con noi online, quindi di poter gestire il tuo negozio da casa, di poter vendere i tuoi prodotti online comodamente da casa. Noi ti diamo tutto chiavi in mano gratuitamente. Per il fatto di lavorare nel mio gruppo avrai accesso a questo fantastico sito. Come vedi è un sito molto ben strutturato, molto semplice da utilizzare, con tutte le funzioni più moderne. E quindi vedi l'home page, il lavora con noi, perché noi possiamo appunto lavorare e fare catene di negozi online. I prodotti. I prodotti che ti dicevo poco fa sono oltre 200. Ti faccio vedere un esempio di schermata delle bevande per esempio. Le bevande. Questo per esempio è il nostro aloe per eccellenza, l'aloe puro, molto richiesto sul mercato. Vedi la schermata è molto semplice, molto semplice, intuitivo anche l'utilizzo, perché un e-commerce che si rispetti per poter funzionare deve essere molto semplice nell'utilizzo. E come vedi, vi è la descrizione del prodotto, aggiunge il carrello e la possibilità di condividere il prodotto sui social network. Questo è importante perché oggi siamo tutti sui social e quindi condividere il prodotto sui social significa farsi pubblicità gratis sui social e quindi già da lì ottenere dei consensi e dei potenziali acquisti del prodotto. Inoltre vedi la possibilità delle recensioni, i dettagli sul prodotto, i video e le tabelle nutrizionali. Quindi un sito veramente fatto bene. Quindi oggi cosa ti propongo? Ti propongo la possibilità di poter lavorare con noi sull'online. Oggi e domani il futuro sarà solo l'online perché la gente preferisce con un click acquistare quello che gli serve. E quindi in proiezione futura noi già siamo con il mio gruppo di lavoro un passo avanti per lanciarci sull'online con delle strategie vincenti. Per cui se tu vuoi avere un guadagno extra o un lavoro primario ti offro la possibilità di poter lavorare con me e con il mio gruppo. Le formazioni sono da casa quindi non devi spostarti, non devi andare in nessun posto. Stabiliamo delle giornate di fare video formazione. Tra l'altro all'interno del pannello di controllo del sito troverai tutta la formazione che ti occorre per poter lavorare. Un pannello che ti serve per gestire il sito, per poter appunto scrivere il tuo blog, per poter scrivere cosa ne pensi dei tuoi articoli, di quello che tu utilizzi. Perché l'arma vincente per poter lavorare con noi è essere prodotto del prodotto, utilizzare il prodotto, vederne i benefici e condividerlo. Quindi sostanzialmente noi facciamo un lavoro doppio, vendita da un lato e di network dall'altro. Facciamo una rete di consumatori, un'associazione di consumatori che utilizza i prodotti. Più grande è il team, più grande è l'associazione dei consumatori che noi facciamo, più grande è il nostro tornaconto economico, quindi quello che possiamo guadagnare. Quindi ti dico, lanciati sul mercato dell'online, se vuoi sfruttare questa potenzialità e questa opportunità, contattami. Io sono il tuo manager di riferimento, mi chiamo Laura Leotta e puoi chiamarmi al 328 285 2274. Sono lieta di darti maggiori info e sono lieta di farti entrare nel mio fantastico team. Sempre un passo avanti su quello di vera e la rosa del benessere. Ciao da Laura Leotta. Ciao.